Siamo, sono io, Raffaele e Agostino, ecco qua, è un po' incontroluccio, però puoi non mineremo meglio, ci vedo? Si, 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 insomma, ti ci vedi, ok, va bene, continuiamo comunque ancora, questa è la strada, sospendiamo per riprendere poi più tardi, insomma, ok? La strada è lunga, ma riusciremo? Certo. Come si dice? A tornare con tutti i pezzi. C'è l'ombra proprio, eh? C'è l'ombra proprio, eh? C'è il controluccio proprio. Sì, ma res, è la strada, è la strada, stai l'ombra proprio, stai l'ombra proprio, A presto! A presto! all'anima Siamo in che giorno siamo adesso? 100 km da Reggio Calabria 100 km? Sicuro che sono 100? 100 Comunque... Tra un'ora, invece, dove arriviamo? Lunga la strada, lunga la via E' basta R office Inventi 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 altissimi un po' ad ora all'estima Grazie a tutti.